I termini del procedimento normalmente si distinguono in termini perentori e termini ordinatori. Perentori sono quelli per i quali c'è una decadenza dell'azione amministrativa, cioè la pubblica amministrazione non può più adottare un atto. I tipici termini perentori sono quelli del procedimento sanzionatorio. L'amministrazione che accerta un illecito amministrativo, se non lo notifica entro 90 giorni, decade dal potere sia una prescrizione, una decadenza, il venir meno del potere di intervento. Se la legge non prevede niente, invece il termine è ordinatorio. Ad esempio il termine del procedimento normalmente è ordinatorio nel senso che si ha silenzio in adempimento ma non si hanno conseguenze giuridiche né si ha la perdita del potere. Paradossalmente anche nell'ipotesi di silenzio assenso o silenzio rigetto non si ha un termine perentorio perché la pubblica amministrazione può sempre intervenire in autotutela. Alcuni termini sono definiti sollecitatori, cioè il legislatore li inserisce pur non prevedendo una decadenza, per motivare l'amministrazione a fare più velocemente.